Cosa c'è peggio della guerra? Un inverno di guerra, con la neve che cade fitta tra i palazzi squarciati, ma abitati. Dopo nove mesi, l'impresa sciagurata di Putin ha partorito solo morte e devastazione. E adesso che arriva il gelo, anche 20 gradi sotto zero, è ancora più difficile. Vivere senza luce, acqua, gas, arrangiarsi con una vecchia stufa a legna, vestirsi a strati, ricevere qualche aiuto quando arriva. Insomma, messi a nudo, è la condizione di migliaia, milioni di ucraini. Quel provocatore di Banksy l'ha descritta bene in un graffito a Orenka, nord-ovest di Kiev. L'uomo barbuto che si fa il bagno nella vasca, per me vuol dire lavare via tutto lo sporco, lo sporco della federazione russa, dice Tetiana, che vive qui e c'era quando Banksy e i suoi sono venuti a marzo a eseguire il murale. Oggi è peggio, visto che l'esercito di Mosca prende di mira anche le centrali termiche e idroelettriche. Un danno colossale, ammettono i responsabili ucraini della rete. Il gasdotto di Kherson, la città appena liberata, è stato colpito dai bombardamenti che hanno fatto almeno un morto. Nessun segnale che la guerra possa finire presto. Anzi, prepariamoci a un escalation, avverte il cancelliere tedesco Scholz. La Germania attende un'altra ondata di profughi. Per il governo di Kiev, Mosca prepara per gennaio un'altra mobilitazione di massa. 700.000 giovani uomini da mandare al massacro. Ne sono già morti più di 84.000, ma Putin non sente ragioni. Lui e il patriarco ortodosso Kirill continuano a inneggiare a una guerra santa che è una bestemmia.